bello a tutti ragazzi qui è Patrick Game e bentornato a un nuovo fantastico video oggi siamo su la nostra bellissima nonnina granny intanto invitiamo un po di persone che bello un command block non è per niente strano che mettono il command block in bella allora siamo ritornati su granny ragazzi la nonnina è più agguerrite che mai e questa cosa è vero è vera questione da fare questa cosa non disturbare guardate pure voi ragazzi siamo un attimo in bagno ragazzi non c'è proprio niente di male ma un attimo solo facendo la cacca aspettate un attimo avete visto edziano chi è me chi è chi è chi è chi è è cosa è cosa è ho dovremmo uscire ok dovremmo stare qui maledetta porta matto e no però vattene via vattene via no moledetta nonna oh che stupida grazie allora nonno ti devo imparare a starti ferma con le mani ti devi stare ferma con le mani ferma ragazzi aspetta e lo sapevo e lo sapevo ma no ma ti ammazzo ma ti ammazzo ma ti ammazzo nonna del ca track come l'ho mandato ragazzi ragazzi oh 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 ragazzi come stiamo andando a lottaro mamma mia tu devi tu devi indietro tu devi indietro ragazzi abbiamo finito le cose abbiamo abbiamo c'è un brett che mi sta rompendo la grata e la mia gatta comunque abbiamo abbiamo finito la cosa abbiamo porca misa ragazzi dopo variati tentativi aspettate un attimo non riesco ancora a a praticamente a riuscire granny forse troppo forte ma noi prendiamo del legno ma non lo possiamo oh mio dio no vabbè ci lo siamo fati alla finestrella muoviamoci con cautela andiamo almeno di su no ti prego dimmi che non può aprire ok oddio ragazzi oh mio dio spero che non non potrebbe aprire ok no oh oh non l'avete visto no vabbè l'abbiamo trollata male malissimo si però no nonna del ca bo no 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 as aspettate cinque secondi tadaaa eh 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 sono riuscito a passare a questo piano eh eh che pensavate che io non ce l'avrei che cosa è stato come mai io sono imprigionato ma che è questa roba ma che è ossidiana wow no per fortuna ancora mai siamo qui guardate come e vabbè no però e no però e no 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 e va no ma cosa ma cosa cos'è questo siamo ritornati nella casa ok ma che dovremmo fare ma che dovremmo fare sono andato nel bagno non potrebbero avere la porta spero no qui però non siamo protetti perchè io avevo distrutto non 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 l'ho superata corri però Oh mio Dio ragazzi oh mio Dio oh mio Dio ragazzi oh mio Dio heאתh Dio shhhh ilipedro AHH oh mio Dio ahia a fa fa bene questo vaffan bene ah 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 oh questa qui è tipo quella slenderina oh madonna ragazzi i colpi che mi sto prendendo ahia ah ah annuncio scusatemi dovrei fare l'inizio del video però uuuu eeeh basta non lo dico solo perché eeeh e poi come vai ah ah allora annuncio importante chi eeeh chi mi mi farà come commento no chi mi farà come commento hashtag patrick eeeh aspettare hashtag patrick ma sto inventando ora la cosa che mi devo dire o sono un pirla hashtag patrick con con so scritto eeeh vorrei vedere altri video io vi lascio io vi lascerò eeeh un commento cioè vi lascerò un cuoricino eeeh dovete confrontarvi e poi decidere a chi potrebbe notare il mio commento perché io potrei rispondervi che ne sapete ok dovete decidervi quindi dovete mettervi d'accordo però non dovete litigare se litigate abbandono il canale no sto scherzando però prenderà dei provvedimenti mi sono appena reso conto che sono riuscito almeno ad andare qui posso andare no vaffan bene si haha la nonna non mi prenderà mai la playhouse oddio ah per andare dentro no non ci serve eccola ok noi dobbiamo andare qui praticamente ok ragazzi dov'è il garage è difficile individuare il garage qua no aspettate ragazzi io odio grande vabbè comunque nessuno si umilita da partire perché guardate questo questo gioca forte del battle royale comunque il video finisce qui ragazzi se vi è piaciuto il video commentate iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciate un po' lice in su l'ho già detto e vai ragazzi out